Adesso, tutti insieme ragazzi, adesso dobbiamo alzare le mani. Forza! Vigevano! Vogliamo vederti con le mani in alto! Forza tutti insieme! Forza tutti insieme! Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio, alziamole in mani, battiamole a tempo. Alziamole in mani, battiamole a tempo. Diretta! Alziamole in mani! Non è finita! Da un mondo migliore, non siamo lontani, possiamo toccarlo se alziamo le mani. Mani! 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 Oppa! Mani! 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 Alziamole in mani! Battiamole a tempo! Tempo! Eh! Tempo! tenpo! Alziamole in mani! Alziamo le mani! Battiamole a tempo! 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 Alziamo le mani! Siete troppo bravi ragazzi, troppo troppo, forza, qui ci vuole il ritmo, prima le mani, poi il tempo, adesso il ritmo, vai! Grazie a tutti! 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 이거 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ci vediamo! Ciao! 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 Deve essere coscienti, quello sia, consapevoli di quello che fa, signori, bene, la 57 sta storridendo, bene, bene, ecco qua, 176, numero, allora ripeto, 24, 33, 16, 120, 5, 9, 102, e 23 ancora, 23, 24, dove sono? Ce l'ha, ce l'ha, dove è andata? E il 109, il 109 ha perso il numero, quindi se hai trovato un uomo snumerato, dov'è il 109? Come si chiama? Nicola, Nicola, hai perso un numero, come puoi corteggiare una donna così bella senza numero? Il cuore ha saltato talmente tanto che ha volato il numero, pensate no, che roba, buon appetito a tutti ragazzi, eh? Mangiamo, dai, mangiamo, dai, si toglie più l'altro, vieni, non si toglie più la parrucca, ah, allora, dov'è? Ha capito che sta bene con la parrucca, non ce la vuol più ridare adesso, effettivamente è più bello con la parrucca, ha del fascino con la parrucca, lasciamo perdere, e questa coniglietta qua da Playboy, guardate qua, è la numero 30, com'è 30? 37, quel numero che non bisognava superare poco tempo fa per uscire di casa, come li chiami? Giusi, che bello nome, da dove vieni? Oh, ma sei più bello adesso che prima? Ah, grazie, da dove vieni? Davidevano, tutti Davidevano, domani noi dei simboli tuffari, domattina andremo a fare un giro nella piazza, se ci incontriamo ci verremo un profetto, ok, bene, grazie, grazie, thank you, buon appetito, ci incontreremo, come ne stai, bravo, fare un po' di diretta, dai, fai un po' di diretta, poco a poco, muoviti lentamente, ma no, Celesto, dai, no, non è la mia natura, ok, facciamo, mi metti a fare la diretta, la maggiorete, mi metti a fare la maggiorete, vediamo, allora, avevo capito, capito, c'è comprito, c'è comprito, c'è comprito, c'è comprito, allora, la maggiorete, faccio, voi siete le maggiorete, no? Grazie. 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 Buon appetito a tutti, liberi. Buon appetito a tutti, liberi. Grazie. 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 Ci incontreremo ancora. Il bancario con la parrucca sta cucando ragazzi eh? se la parrucca non cucami. Forza ragazzi, vai fare una Vai Vai E' finito Siete un pubblico Fantastico ragazzi Fantastico Siete proprio bravo Allora Il secondo ormai l'abbiamo fatto fuori Tra un video qui e l'altro Questo è scarico eh Adesso cambiamo Questo è scarico Allora 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 Partiamo un pochino Con calma Già finiti i secondi ragazzi Sì Va bene Va bene Abbiamo una cantante Sì Abbiamo una cantante Sì Abbiamo una cantante Cosa fai La chiudi E' scarico Sì Saluto Luca la via Luca la via Salutalo Ciao sail'ится Ciao 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 So Ciao 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 Grazie.